Ciao ragazzi, buonasera a tutti, eccoci ancora qui, ancora con un nuovo video, abbiamo i premi dalla Division Rivals e FUT Champions, questa è la squadra della settimana con Griezmann 90, Alessandro 86, 87, Kim Ben-Pè, Dubravka 86, sta facendo un sacco di partite buone Dubravka, De Paul pure 86, una bella squadra dai, perché no? Che cosa vorrei io di qui? Sicuramente ci fa trovare un sacco di Malinovski, di Klausen, sicuramente, Claude, questo, e poi gli 83 non si capisce tra Evans, C. Gankov e tutti gli altri Io vorrei trovare almeno uno dei top 2, 3, 4, 5, dei top 5, degli 86, più, va bene, vediamo Allora, FUT Oro 3, settimana scorsa, un po' così, però ci sta, abbiamo l'e-peak qua, vediamo un po', mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi, attivate la campanella Allora, iniziamo con il primo pick, che cosa ci regala, uh, Areola 89, ma porco il mondo No, pacchi, 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 pucchi, 3, 3, non lo userò mai, però Areola, sicuramente Un 89 di Areola, nice, prendiamo Areola, e il prossimo, speriamo bene, speriamo bene Di nuovo Areola, Nkunku, sì, questi, se non mi sbaglio, sono pure i giocatori della cosa, dei tots Che qua Nkunku pure, tanta roba ragazzi Bella, bella, bella carta, bella carta, bella proprio, bella proprio Agilità, 94, resistenza 88, bella proprio Nkunku è Areola, nice Ehm, divisione rivals, speriamo almeno al secondo Che abbiamo qui, 4, 2 Mb, 2 Mb, 2 Mb, 2 Mb, 2 Mb, qui abbiamo 1, 1 e 2 No, le prendiamo tutti scambiabili Sì, livello 2 No, 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 registrati, registrati Joe, registrati Joe Controllo, no, dai Sì, ci siamo registrati Allora, mo passiamo alle cose belle ragazzi Si passa alle cose belle, abbiamo tantissimi pacchettini qua Giocatore tots EFL garantito Però noi iniziamo da qui, oro maxi Forza Non è bandierina 80, 80 più Sì, Ocampos, 82, nice Nice Tanta roba Ocampos, Olsen Giocatori, oro Non è bandierina 76, Lozano Junior Firpo Oh, nice Quanto mi piace quando sono tutti scambiabili i giocatori Perché almeno, è vero, ci sono meno pacchi Però Hai la possibilità pure di venderli Non li perdi magari quelli 1 o 2 giocatori Che non c'hai come doppioni scambiabili Quindi li vai a perdere Sacco Ok Bello, bello, bello così Mi piace Ok Oro maxi Una bandierina Almeno un walk out Spero che ce lo dà stasera Prossimo oro maxi Dai, almeno una bandierina Ok Sergio Asenjo Ok Due doppioni Un po' di crediti Li facciamo Prime piccolo Ah, stavo dicendo Nah, dove sta Nah, dove sta Libertadores Bore Bore Ha Va bene Due su tre salviamo Ci sta Ok Questo è l'ultimo Un po' più bruttino Poi iniziano tutti quelli buoni Quindi abbiamo Oh No Di nuovo Libertadores Salvio 81 Nice Salvio 24 Non scambiabile Poi abbiamo qui Tutti questi scambiabili Salvio Li abbiamo salvato Se li salviamo tutti Dobbiamo trovare per forza Un walk out Eh sì ragazzi Li abbiamo salvati tutti Si deve trovare un walk out qua Per forza Per forza ho detto 75 o superiore Hanno sempre regalato cose belle qua Ah però stavolta no Dembele 80 Nice Non ce l'ho manco I giocatori Così li lasciamo per l'ultimo Dai Tots garantito Alla fine Ma bandierine Niente Zero proprio Per in 82 73 Questo ci deve portare a fortuna Questo Misti rari Oh manco una bandierina Ma no 80 Stindle Stindle Ok Li butto tutti al club Perché Insomma Rimango senza spazio Zinco rari Dai Dai zinco Dai Forza zinchio Zinchio rari Si walk out signori Walk out Chi sarà Spagna C o c No No David El Silva 86 E ce l'abbiamo fatto Abbiamo trovato Walk out Stasera Ok David El Silva Misti rari Di nuovo ragazzi Back to back Non l'abbiamo visto Questo E back to back Walk out Back to back No Dubravca if Dubravca 86 if Quanto è bello dubravca if Ma quanto è bello sto dubravca if Nice dubravca if Back to back to back E qui abbiamo gli pacchetti super mega extra che non ci fa trovare niente comunque Poi vedete Bandierina Spagna Portiere Del levante Ai tor 83 Ok Ai tor Uh Doppio 83 Ai si Ai si Doppio 83 Si Come vi ho promesso Lo lasciamo all'ultimo Un walk out Si E proprio Tozzi Francia Portiere Bello Areola Areola Signori E proprio lui Pulisci Pulisci quella carta Si Si Finalmente Si Che è pure scambiabile Quanto vale a regolare Tozzi Fino a 200 Ah vabbè Non tanto Però è una bella carta dai 91 86 86 92 88 Nice Per a regolare Tre walk out Signori Oggi Tre walk out Pacchietto mega Pacchietto mega Taizond 81 Nice Ci mancano due pacchietti Andiamo con il pacchietto mega Raro 4 walk out Signori 4 walk out E if ATT No Dubravka di nuovo Ma che cosa è stasera? Che cosa è successo stasera con tutti questi walk out? Bello Dubravka Bellissimo Doppio 81 3 volte 81 Addirittura 4 walk out Se non mi sbaglio Abbiamo trovato 4 2 Dubravka David Silva E Areola Nice E vamonos con il garantito EFL Tozzi 5 walk out 5 walk out Il mio record Signori Il mio record 5 walk out Non avevo mai trovato 5 walk out Che è questo? Grönelveld Daniuma Daniuma Grönelveld 88 Tanta ma tanta roba 5 walk out Record personale Ragați Quanto vostra? Ambe Ambe Vediamo un po' Cosa ci 4 4 Nice Accelerazione 95 Ma lui è pazzo Ma lui è pazzo Potenza Tiro 93 Mamma mia 5 walk out Signori 5 walk out Il mio record Personale In FIFA 21 Io vi ringrazio Ragazzi Se siete arrivati A questo punto Del video Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi Perché Veramente Tanto bisogno Del vostro aiuto Per portare Quanto più avanti Questa storia Questo canale Lo dobbiamo far salire Alle stele Io vi ringrazio Tantissimo E ci vediamo Con un prossimo Ciao Ciao